il papà della bambina questa ragazza è molto più avanti della curvatura o aspetta quale curvatura ha disegnato molto sulla lavagna si è esercitata fino a quando non è stata abbastanza sicura di sé da presentarlo e ora è probabilmente la più giovane presentatrice della terra piana che l'abbia mai fatto non dovrebbero esserci limitazioni su ciò che la nostra prossima generazione può e non può fare capita di essere bravissima in tutto ciò che prova questa è solo la seconda presentazione che abbia mai fatto sono così orgoglioso di come è andata a finire grazie a tutti i nostri amici e sono 8 anni e sono i amici e ho 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 amici di farlo con la flat earth quindi first we're going to start off with gravity gravity is a theory not a fact mass attracting mass has never been proven properly this happened in 1666 an apple fell on Isaac Newton's head it must have been a big apple for him to believe in gravity gravity is fake because density and emf are making things drop not gravity there is iodine salt in this cup and no iodine salt in the other cup there is two cups of water uh with an egg one with iodine salt one with no iodine salt this one has iodine salt and it has electricity because electricity is pushing the egg up on the other one has no electricity in it because um the egg is denser than the water density and surrounding medium with emf that stands for electromagnetic frequency if gravity can't be proven and earth is 70 percent water we know water stays level then 70 percent of earth is level now we are going to move on to the globe and our flat earth so say there is a boat just cruising on the bottom of the earth um it would fall into space and space is fake if space was real stars would have parallax but they don't so it would just fall into space and this is for anything that can't go upside down if people believe that the earth is round people don't walk upside down same with a boat it doesn't it doesn't sail upside down they think this is true or not well no it is not this is our true flat earth and the thing around it is the firmament i'm going to tell you how the firmament is real the firmament is real because air pressure has to be contained just like in a tire now we are going to move on to seasons and the sun the spinning fall globe believers say that the sun is 93 million miles away the globe depends on parallel race for the seasons all you have to do is use your god-given eyes to see we have capuscular rays from the sun capuscular rays proves we have a local sun that proves everything about seasons and the sun now we are going to move on to a sun moon and earth depiction the sun is shining on the moon and the moon is shining on the earth why is it not shining its temperature on earth well me and my dad did an experiment one night on a full moon and we used a laser thermometer to check the moon's light and its shadow the moon's light was colder than its shadow so that proves the light is colder than its shadow and proves that the that the moon has its own light the sun is not reflecting its light on the moon the moon has its own light thank you for watching my flat earth presentation i hope you guys liked it and jesus christ is the way the truth and the life just remember the truth does not fear investigation thank you for watching bye see you per le vostre liberi ricerche invito a scorrere le migliaia d video attraverso il link ha che trovate su indice alfabetico dal sito web www www puntoinelli punto e U su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divisa per tematiche le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore sempre a disposizione il risveglio a colori solo ne formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in auto carica viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla ognuno è libero di eseguire ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento